Il mio non è un lavoro ma una passione, per questo ho reinventato il mio mestiere. Passione che ha portato Francesco Adduci, 29enne di Santa Maria del Cedro, a realizzare una divertente idea che ha cambiato il solito modo di fare il parrucchiere. Armato di forbici e pettine, Francesco ha lanciato Io volevo farli qui, iniziativa con la quale porta in giro i suoi clienti a fare i capelli nei posti più belli della Riviera dei Cedri. Idea nata quasi per gioco insieme a tre amici, senza scopo di lucro e senza pretese, ha raccontato Francesco, semplicemente per mostrare e valorizzare le ricchezze naturali e i meravigliosi paesaggi della nostra terra. Un gioco che ha una sola regola, sono i clienti a scegliere il posto più bello dove farsi fare i capelli. L'uscita ufficiale di Io volevo farli qui, il primo giugno scorso, con la pubblicazione online di un videoclip, è stata preceduta da qualche mese di curiosità che i ragazzi hanno saputo alimentare grazie alla loro professionalità. L'equip di Francesco si compone infatti di tre fotografi tecnici audio-video, dotati anche di un drone per le riprese dall'alto, che sono i suoi amici co-ideatori Angelo Benvenuto, Giuseppe Aloise e Gabriele Gaeta. Finora il posto più strano in cui lo hanno fatto è ai ruderi di Cirella, ma, ha raccontato Francesco, di recente un nostro amico ha voluto fare un taglio di capelli in aperta campagna in mezzo ad un greggio di pecore. Un'iniziativa che sembra avere le giuste basi per crescere. Riceviamo tanti complimenti, ha confermato lo stravagante parrucchiere, ma anche tanti consigli per migliorare la nostra attività. Tutti i nostri clienti si sono detti contenti di aver partecipato ad un progetto che ha come unico scopo la valorizzazione della nostra terra. Senza i miei pazzi amici, ha concluso Francesco, tutto questo non sarebbe stato possibile. Ai miei compagni di avventura va il mio grazie.